Negramaro Negramaro, nasce il 17 novembre il nuovo disco È grande l'entusiasmo per il ritorno dei Negramaro, il 17 novembre uscirà l'attesissimo settimo album della band, composto da 12 brani inediti. . Eccellenza del rock italiano, Negramaro, attivi da oltre 15 anni, hanno alle spalle sei dischi di inediti, uno raccolta, uno album dal vivo, quattro DVD e più di 30 i radiofoniche di successo. . Di grande rilievo è anche la loro dimensione live. . Negramaro, infatti, dall'inizio della propria carriera, hanno registrato numeri sbalorditivi in tutti i loro tour, dalle piazze ai teatri, dai palazzetti agli stadi, la rivoluzione sta arrivando, tour, riempendo anche il circo massimo a Roma, la notte di Capodanno, ha infatti totalizzato oltre 300 mila presenze. . . E vantano due primati, sono stati la prima band italiana a calcare da protagonista il palco dell'Arena di Verona, estate 2007, e dello stadio San Siro di Milano, 2008. . 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 Grazie per la visione!